... Vuole ripartire dalla piramide di Maslow? La tengo lì. Allora, buongiorno. Buongiorno. Grazie. No, no. Mi sentite? Sì. Benissimo. Allora, io vorrei fare delle... Ovviamente traccherò il tema dell'appartenenza al volontariato, però farò due minuti, tre minuti di considerazioni sul concetto di appartenenza, che bene e così bene il dottor Rivazio. Parlare di appartenenza oggi sicuramente non è parlare di appartenenza sia al mondo del volontariato sia appartenenza in generale come si poteva fare tre anni fa, cinque anni fa, dieci anni fa, venti anni fa. Ha detto bene il dottor Rivazio quando ha specificato che oggi è un tema inattuale parlare di appartenenza. Cercherò di spiegare dei motivi brevemente per cui è inattuale e vi dico anche che invece io di appartenenza, sulla appartenenza lavoro molto, perché per il mio lavoro, per quello che faccio, cioè aiutare le aziende, aiutare le classi, aiutare gli studenti, aiutare una squadra sportiva, aiutare dei gruppi in generale, il rapporto tra individuo e gruppo è qualcosa di fondamentale. E' qualcosa di fondamentale dove se noi andiamo a lavorare sull'appartenenza facciamo un'opera di chiarezza, perché come dico io appartenenza, con tutte le parole, appartenenza è una parola di chiarezza, e dopo vedremo cosa vuol dire, e di libertà. Va bene? Perché dico che l'appartenenza, il tema dell'appartenenza è inusuale ma non è casualmente inusuale? Perché è volutamente inusuale. Sulla appartenenza, a partire dal primo dopoguerra, anzi durante la guerra stessa, parlo della seconda guerra mondiale, si sono costruite degli studi importantissimi che studiano il comportamento dell'essere umano in gruppo. E la psicologia sociale ha a pacchi di questi studi, potrei tenervi qua sei mesi, parli di 40 minuti, fortunati voi, cercheremo di dire qualcosa di sensato. Quando il dottor Riva fa vedere quella che è la piramide di Maslow, che è una piramide interessante, sociologo, ha portato avanti questa cosa, All'inizio, cioè proprio al vertice della piramide, abbiamo l'autorealizzazione, per cui bisogna di sé, tutti i discorsi spirituali, tutti i discorsi etici. Quando nella nostra società ci si chiede perché abbiamo problemi di etica, problemi di valori, problemi... La risposta è abbastanza semplice. Hanno massacrato i quattro livelli precedenti. Oggi viviamo in una società che tende a distruggere i quattro livelli precedenti. Va bene? Questo lo vedete tranquillamente. Perché i bisogni di base, respirazione, alimentazione, sesso, sonno, homeostasi, sono abbastanza dovuti a noi stessi. E quindi... Ma se andiamo su, livello di sicurezza, pensate a tutti i messaggi politici o meno sulla sicurezza, la paura del diverso, la paura del terrorista, la paura di quello che... Paura. Ci stanno dando paura a grandi donne. La paura del lavoro, di perdere il lavoro, di perdere l'occupazione, di queste cose ci è stata data. L'appartenenza, amicizia, affetto familiare, intimità sessuale, per cui tutto quello che è stata, come dire, la riflessione e anche la distruzione delle relazioni all'interno della famiglia, dei quartieri, delle società, ce l'hanno dato. Stima autocontrollo, come facciamo a avere queste cose quando uno perde il lavoro, non per colpa sua, ma perché magari ha 40-50 anni, chiude l'azienda, poi dopo cosa fa? Perché ha avuto problemi con la famiglia, perché prende meno soldi, perché è un esodato? Allora, sono tutte situazioni indotte, perché non sono casuali, volute, che vanno a minare l'ultimo gradino. Ok? Proprio quando c'è la crisi di valori, mi spiace, non è inutile pensare ai tempi moderni, i giovani non sono più come gli antichi e c'è. È qualcosa di estremamente voluto. Chiaro? Non c'è niente che succede per caso in questa città, cercate di guardare quello che avviene. Ok? Se voi accendete il telegiornale, vi iniettano paura e basta. Non leggete il telegiornale, non leggete il telegiornale, vivete sapendo che crisi, paura, cazzo di denaro, eccetera, sono cose molto complie. Detto questo, su cosa si può partire per parlare dell'appartenenza? Beh, il tema è che è di volontariato. Il fatto è che ciascuno di voi, ciascuno di noi appartiene a tanti gruppi e magari non se ne rende conto. In alcuni gruppi entra volontariamente, tipo l'Avus, tipo il gruppo del quartiere, tipo il gruppo degli amici dell'università, qualunque scelta che facciamo. In alcuni gruppi ci capita e non può farci niente. Cioè la famiglia, uno non è che sceglie, a livello esoterico la sceglie, ma è un discorso un pochino più complesso. Adesso la città in cui vive, quando soprattutto è piccolo, non la sceglie. La scuola a volte è costretta a andare in quella scuola. Alcune sono scelte che noi facciamo, altre sono scelte che noi facciamo. Per parlare dell'appartenenza, allora cosa dobbiamo tenere presente? Certamente il rapporto che c'è tra individuo e gruppo. E abbiamo detto che dato che è una parola di libertà e di consapevolezza, vi propongo questo. Cioè, quello che propongo solitamente a tutte le persone che fanno parte di un gruppo di lavoro. Cioè voi andate a lavorare, se io voglio migliorare la performance sul lavoro, vado a lavorare sull'appartenenza. Perché persone che sono consapevoli della loro appartenenza avranno un livello di motivazione più alta, dunque le performance saranno molto migliori. Lo stesso posso fare con una classe di bambini, lo stesso posso fare con un gruppo sportivo, lo stesso posso fare con un esercito, con qualunque gruppo organizzato. Ci siamo, questo? Come una comunità cristiana. Cioè, ok? Con l'Avulis. Se io vado a lavorare su questi elementi, sale la motivazione delle persone, riesco a capire, fare chiarezza dentro di me e anche all'interno del gruppo, dunque migliora quella che è la prestazione. Ci siamo? Questo è chiarissimo. Ok, per fare questo bisogna dire anche qualcosa che non è popolare. Per cui io non è che vengo qui a fare l'elogio del volontariato. Va bene. Cioè, non è che fare il volontario è bene e non farlo no. Dipende. Se tu hai voglia di fare volontariato, di dare un pezzo di quello che hai, che è allineato a quello che tu sei, è una buona cosa. Se tu fai volontariato per tanti motivi, perché c'hai bisogno tu, succede? Perché in qualche modo ti hanno tirato dentro ma non ti interessa tanto, perché hai bisogno di vedere qualche persona, eccetera, eccetera, è una cosa legittima, ma può essere anche una scelta non allineata con quello che sei tu. Ok? Ci siamo? Allora, la domanda centrale che mi piace fare e che vale anche per il lavoro, eh, per una scuola, per un ragazzo che decide cosa fare, è questa. Perché fai quello che fai? Perché fai quello che fai? Oggi negli Stati Uniti un studioso che si chiama Sinek, molto giovane, si chiama Simon, per cui si chiama come me, Simone, e è andato a lavorare su un livello di motivazione, dice io non voglio persone che lavorano perché devono lavorare, io voglio persone che lavorano da me perché sono contenti di lavorare da me. Questo mi fa la differenza. Vuol dire che un volontario, se lo coniughiamo a quel livello, è, tra virgolette, se è contento di far parte proprio di quell'organizzazione di volontariato, avrà un entusiasmo, avrà anche uno spirito critico, romperà un po' le scatole, magari tutto quello, però in qualche modo interagirà con l'associazione in una maniera superiore rispetto a un volontario che si trova lì per caso. Ci siamo? Allora è fondamentale, anche quello che si trova lì per caso è una risorsa, bisogna vedere se non c'entra niente con l'associazione, oppure attraverso un lavoro di sviluppo di quello che ha dentro, si può fargli prendere consapevolezza di quelli che sono, che cosa? I suoi talenti, cioè perché fa quello che fa. Voi dentro qui siete una cinquantina, adesso non vi conto a spanne, però fondamentalmente ciascuno di voi ha una motivazione intrinseca che è quella di portare il suo talento, la sua specificità dentro l'Avuls e dall'altra parte esiste una motivazione che è data dalla storia dell'Avuls, da quello che è la vostra, come dire, missione, no? Missione dell'associazione, quello che dovete fare, che vi ispira e il gioco è tutto quello di mettere in armonia la vostra individualità, il vostro talento, le vostre capacità, con quello che desidera e con quello che si propone all'associazione. Va bene? Questo è il segreto dell'appartenenza positiva, cioè essere coscienti del motivo per cui noi siamo dentro, facciamo parte proprio di quella cosa lì. Faccio un esempio, se io faccio parte dell'Avuls e domani mattina, attraverso un lavoro di discernimento, che è una parola molto usata e che si è andata un po' persa negli ultimi tempi, attraverso un lavoro di chiarificazione interiore, mi rendo conto che il mio posto potrebbe essere fare volontariato alla Croce Rossa, l'Avuls, tra virgolette, tutti gli amici dell'Avuls, hanno fatto un grande servizio alla società, alla collettività, a me e a loro stessi, chiarificando quello che era la mia vera essenza, il mio vero perché. Allora, provate se volete, chi vuole poi fare questo gioco. Come si fa questa domanda? Si risponde con un verbo e, per esempio, perché fai quel che fai, cosa fai tu? Io rispondo, ispirare, questo è il mio, le persone a trovare il loro talento. Me lo sono scritto dopo mesi, deve essere uno slogan, cioè voi cosa, perché fai quello che fai? Cioè, vale anche per il lavoro. Perché fate quel lavoro lì? Per guadagnare i soldi? Non è una motivazione valida? Ti serve per pagare le bollette per un certo periodo, ma nella tua vita tu sei qui per fare qualcosa di molto più grande che pagare le bollette, no? C'è un ragazzo che mi diceva, finita la scuola, alle superiori, professore che lavoro posso fare? Mi dica un lavoro, vado anche a spallettare il gelato. Vedi, quello lo puoi fare per un piccolo periodo, per quello che vuoi, ma la cosa importante è che la persona scopra qual è il suo talento, ok? Non deve fare un lavoro qualunque, deve fare un lavoro che in qualche modo c'entra con quello che è qui lui a fare sulla terra. No, non è impossibile. Non è impossibile. Non è impossibile. Certo che se mi dice guadagno di più a fare qualcos'altro, stiamo su un altro discorso. Io posso fare qualcosa che non mi piace e prendere più soldi. È una scelta, non sarò mai felice, ricordatevelo. Però il tema è capire che cosa noi stiamo facendo. Non è impossibile, perché se noi mediamo quest'idea che è impossibile, non si può fare, non si può fare quello che vuoi, bisogna sacrificarsi, devi adattarsi per tutta la vita. Non è vero. Ci sono persone che a questa domanda a cui gli chiedi perché fai quel che fai non hanno mai dato risposta. Cioè uno vive tutta la vita, arriva a 75 anni, va in Portogallo e dice perché hai fatto quello che hai fatto? No, non so. Allora vi consiglio, soprattutto quei giovani, di farglielo fare, ma anche voi come volontari è perché fai quello che fai. Perché la possibilità di cambiare ce l'avete sempre. Non è vero che voi siete come dire, una maestra, uno che lavora in banca, un sacerdote, voi siete delle persone che da un momento all'altro possono cambiare quello che fanno. una volta che voi prendete coscienza di questo, stop. Voi dite ma non è proprio così, c'ho la famiglia, c'ho l'Enel, c'ho la bolletta, quali sono tutte le motivazioni che in qualche modo vi trattengono. Nel momento in cui voi decidete di cambiare l'uomo è fatto per cambiare. Una volta che voi prendete fate esattamente quello che hanno fatto chi? Cioè San Francesco ha detto no guarda facevo il cavaliere, ero molto ricco, no? No, è piena la storia di gente così, non che è diventata povera ma che ha seguito la sua vocazione. Ok? Certo che se prendiamo anche i personaggi che ci dicono le sacre scritture e le prendiamo come esempi paradossali, invece sono insegnamenti che servono a tutti, no? Cioè se si può farlo solo San Francesco non è molto indicativo dell'essere umano, no? Se lo può fare solo Gesù non è molto indicativo dell'essere umano. leggiamo di... Allora leggiamo le fiamme, è uguale, invece quelle centrano molto con la nostra vita. Allora, capire perché facciamo quel che facciamo è importante dunque per un volontario chiarire e per un'associazione chiarire perché si fa quel che si fa è importante. La seconda cosa che volevo lasciarvi è sulla volontà, no? E la terza è la provocazione che ovviamente i miei interventi non possono essere tranquilli. Allora, per partire dalla volontà volontariato mi è venuto cosa significa appartenere a una associazione volontaria? Partiamo da un disegno che è abbastanza conosciuto, no? Io lo disegno male, ma perdonate. Anch'io lo disegno male. Bene. Ok, mi sono dimenticato forse qualche collegamento ma ci sono. Allora, questo lo avete, lo conoscete perché ce l'avete anche abbastanza visto. Lo sapete cos'è? E' anche l'albero di Natale, anche il gioco dell'oca, ma ce l'avete qui all'al, come dire, dove c'è stata l'Expo. E' l'albero della vita. L'albero della vita. L'albero della vita. Allora, fondamentalmente l'albero della vita che cos'è? E' il papà o la mamma di tutti gli organigrammi. Se voi studiate gli organigrammi aziendali sono una cosa molto più modesta di questo, no? L'albero della vita è una gerarchia perché rappresenta fondamentalmente tante cose ma tra tutte le cose che rappresenta e anche dentro la cultura cristiana Dante lo conosceva benissimo perché nel paradiso descrive esattamente tutte le gerarchie angeliche rappresenta esattamente le gerarchie angeliche. Va bene? Per cui, in ogni sfera ci stanno ci stanno le gerarchie angeliche. Questo, per esempio, si chiama Keter qua ci stanno i serafili. Va bene? qua ci siamo noi questo è il regno ci stanno gli uomini cosa voglio dire? Perché parlo di questa cosa? Perché vuol dire? Cosa significa appartenere al volontariato? Appartenere al volontariato vuol dire da una parte qua dove ci sono i serafili c'è la volontà il loro dono si chiama volontà volontariato volontà per cui una cosa importante c'è la volontà di far parte di qualcosa sono libero perché ho la volontà voglio far parte di qualcosa è la volontà che muove tutte le cose è importante poi qui abbiamo tutte le altre gerarchie qui abbiamo i chagubini qui abbiamo i troni qua ci sono gli angeli gli angeli i pagini di arcangeli la cosa importante è che qui sotto ci sono gli uomini chi comanda in questo organigramma? tutti 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 no nessuno 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 no io questo gli angeli sono al servizio dell'uomo vuol dire che qualunque ruolo abbiamo noi all'interno di un'associazione di volontariato noi possiamo fermarci qui queste sono le persone di cui ci prendiamo cura quelle che comanda quello che comanda è questo cioè il senso del nostro essere volontari del nostro appartenere non è nella gerarchia perché ciascuno deve fare bene il suo non è che il presidente conta di più del vice presidente conta di più del volontario che è arrivato ieri conta di più di quello che guida il pulmino non è una questione di ognuno fa il suo a seconda del suo talento se uno è contento di guida il pulmino ed è realizzato a far quello sarà contento di farlo se uno è bravo a fare non so finanza ragioneria tenere il bilancio tenere il bilancio non è che è più importante fate parte di una cosa armonica giusto questi sono tutti in armonia questo è quello che comanda chi è che comanda il comanda è quello che voi la persona a cui date il servizio giusto è quello che vi da il senso essere volontari perché se non ci sono le persone che hanno bisogno del vostro servizio non ci siete più voi ci siamo in un'azienda se mancano i clienti non c'è più l'azienda invece noi siamo convinti che comandano questi l'amministratore delegato o il presidente relativamente se il presidente è bravissimo e gli operai fanno schifo l'azienda non va bene se gli operai vanno bene e il presidente fa schifo l'azienda non va bene che cosa tiene insieme come dire l'appartenenza e la virtù di qualcosa di un'associazione di volontariati esattamente quelli che vedete qui sono i canali di collegamento il fatto che ciascuno riconosca nell'altro un'utilità e che insieme metta in gioco qualcosa di armonico non è una questione di gerarchia anche se è una gerarchia cioè ognuno deve essere cosciente del ruolo che ha ma non si deve sentire più o meno importante degli altri perché tutti collaborano per fare il servizio ok questo è il senso di un'associazione di volontariato avere la volontà di mettere in pratica con i doni che ciascuno ha perché per esempio i cherubini hanno l'amore che vuol dire tanta roba gli angeli hanno l'idea insomma del servizio ok il tema è che ciascuno ha dei doni con la volontà che fa muovere tutta questa macchina qui ma chi comanda è quello che voi servite dentro e qui vado sconfino nella nella parte teologica però è Pasqua lavanda dei piedi qual è il significato di quella cosa lì se non quello sono al servizio di no giusto esattamente questo schema ok allora l'idea è capire perché voi siete qui e ciascuno lo può fare non è che deve fare le outing adesso mi deve dire perché fa quel che fa però il tema di capire perché voi fate parte dell'Avuls è qualcosa che aumenta la consapevolezza di sé e eventualmente di che cosa vi piacerebbe fare di che cosa potreste fare per migliorare quello che fate di che cosa potreste portare d'altro se siete proprio sicuri di essere qui cioè una cosa bella no ed è anche un servizio che l'associazione fa verso di voi quello di dire appartengo a questa associazione dall'altra parte capire che ognuno fa parte a un ruolo fa parte di un qualcosa di gerarchico ma ciascuno è importante non c'è chi vale di più chi vale di meno chi conta di più chi conta di meno è un'armonia che porta a un servizio senza tenere presenza senza dimenticare che veramente il nostro centro è nelle persone a cui diamo servizio che siano bambini anziani quello che è dentro l'associazione di volontariato il nostro senso di essere trova in qualche modo significato nell'altro ok allora il significato del nostro partenere trova come ha detto prima il dottor Riva l'ha detto con dei passaggi il significato nell'altra persona ovviamente per fare questo passaggio e poi qui ci siete? sì speriamo allora per fare questo passaggio non posso dire che il senso è nell'altro se l'appartenenza io certo devo appartenere a un territorio devo appartenere a una comunità devo appartenere a tutto quello che devo appartenere ma la prima appartenenza che devo avere è l'appartenenza a me stesso se io non mi appartengo cioè se io non so perché ci sono qua appartengo al circolo alle acri appartengo al circolo della caccia appartengo al circolo dell'anticaccia appartengo al partito vatte alla pesca appartengo alla squadra interstellare di calcio appartengo alla parrocchia dove vado appartengo al gruppo sciamanico che si ritrova il mercoledì sera appartengo alla Conad tutte le tessere che avete della Conad tutte le tessere di appartenenza siamo i più infedeli nell'appartenenza che ci siamo perché abbiamo più che 3.000 tessere di appartenenza hanno lavorato per abbattere il nostro senso di appartenenza capite allora l'appartenenza si ritrova attraverso le associazioni ma anche attraverso se voi andate nelle città oggi è molto difficile riuscire a rimettere in piedi questo senso di appartenenza ed è quello che ci aspetta perché secondo voi oggi c'è questa difficoltà di appartenere a un quartiere a conoscere le persone a trovare la gente che fa volontariato perché è stato voluto e ovviamente le persone che non appartengono sono persone più deboli perché sono sole giusto? se siamo soli siamo più vulnerabili siamo più deboli non possiamo cambiare non possiamo neanche arrabbiarci se siamo in tanti possiamo anche arrabbiarci ok? l'unica appartenenza che abbiamo che è un'appartenenza virtuale anche quella costruita sono l'appartenenza ai gruppi facebook o sui social network che sono bellissime ma praticamente ci fanno sfogare lì ci fanno arrabbiare lì ed è voluto ok? l'ultima riflessione sulla appartenenza quella faccio lì poi vediamo se ricordatevi anche una cosa cioè prendetevi seriamente anche le risorse tutte queste cose no? ti dicono che c'è crisi non ci sono soldi che non ti danno l'ambulante però ricordatevi una cosa soprattutto per chi ha una certa come dire sensibilità religiosa che può essere cristiana poi ortodosso cristiano cattolico ortodosso non è importante nella lettera a Dio Nieto c'è scritto una cosa molto bella voi siete di questo mondo ma non appartenete a questo mondo ricordatevelo siete nel mondo ma non appartenete a questo mondo per cui fate tutte le cose belle che volete ma guardate anche le cose con un'altra dimensione perché se rimaniamo solo sulle dimensioni materiali non usciamo più il rischio di alcune associazioni di volontariato che ho visto negli anni perché anche io ho la mia età in più degli anni settimana scorsa è quello di perdere di vista la parte spirituale o comunque la parte di coltivazione della persona di evoluzione chiamata come volete per andare solo a fare delle cose se la parte del fare e la parte del senso del fare cioè la parte più alta sono staccate il nostro senso dell'associazione va col paese capite? cioè è importante sempre alimentare i motivi individuali e collettivi che ci portano a fare quella cosa lì non siamo falegnami cioè non è che nella nostra vita dobbiamo sostituirci allo Stato sostituirci alla parola per fare dei servizi ovviamente lo facciamo ma perché abbiamo delle motivazioni che sono più alte rispetto a fare quelle cose lì e basta no? giusto? sono importanti le cose concrete e pratiche per amore del cielo non vi sto dicendo di no siete anche meravigliosi a fare aiutare le persone ma non è solo nel fare che può trovare in qualche modo a mio avviso ma non solo a mio avviso senso il fatto di appartenere a una situazione deve essere anche un fare che è ispirato da una certa attenzione alla persona deve essere un fare ispirato a crescere anche individualmente cioè attraverso il nostro fare attraverso l'aiutare l'altro ci conosciamo e anche noi no? facciamo un percorso differente capite? ovviamente non c'è niente di stravagante allora questo è una cosa che vi vorrei invitare a fare come può avere senso fare associazione allora in questo e qui concludo come come dire nella nostra nella nostra società ai tempi nostri beh sicuramente andando a valorizzare a motivare le persone cercando di capire che nel rapporto tra singolo individuo ve lo dico perché è una cosa che a livello di squadra a livello di lavoro succede è il gruppo che all'interno di questo delicato rapporto ha un grosso potere ok? difficilmente raramente è il singolo che può andare a cambiare la dinamica del gruppo il gruppo ha una grande responsabilità che è quello di tirar fuori il meglio delle persone che fanno parte della dell'associazione dell'individualità ok? difficilmente il singolo può andare a cambiare dinamiche di gruppo ma molto difficile il rischio è che il gruppo rimanga chiuso che il gruppo rimanga come dire in qualche modo non aperto ai cambiamenti il rischio che il gruppo rimanga conformista San Paolo direbbe non conformatevi a questo mondo ogni tanto dobbiamo rivedere quello che stiamo facendo perché ci serve altrimenti il singolo lo cristallizziamo il singolo è un po' come una come dire ci sollecita il gruppo però è capace di dare i valori di dare le indicazioni materiali ovviamente di tirare fuori il meglio di sé ma ricordatevi che i gruppi sono anche capaci di tirare fuori il peggio perché se sono gruppi giudicanti tirano fuori il peggio se sono gruppi abituati allo storico non saranno mai gruppi innovativi se sono gruppi chiusi non si apriranno sono tutte dinamiche molto molto importanti ok ultimissima cosa e su questo veramente chiudo qual è il senso della cornice cosa possiamo fare noi a livello di volontariato una cornice non cambia come le tessere di un mosaico non è che so va via un volontario non c'è più il volontario cambia il disegno cambiamo la cornice non cambia la cornice non cambiano i valori non cambia l'ispirazione ovviamente se io ho un volontario nuovo che entra lui è una tessera di un disegno più grande che non può essere esattamente uguale cioè dello stesso colore della stessa forma della stessa dimensione di quello che c'era prima ognuno di noi ha delle doti uno diverso da quello dell'altro la bravura del quadro del mosaico è quello di adattare il disegno ai colori alle forme delle persone che arrivano perché non è che andati via tre volontari io mi posso aspettare dall'altro la stessa cosa che mi aspettavo da quello prima ognuno di noi porta una sua specificità certo devi inserirlo nel gruppo ma noi dobbiamo essere bravi a metterlo nel posto giusto per farlo rendere al meglio questa è la bravura di uno che ha delle responsabilità uno che allena una squadra di pallacanestro è allenato per tanto tempo è quella di trovare persone e metterle nel posto giusto per fare meno danni non sono bravo io sono bravi loro io sono bravo nel momento in cui lo metto a fare la cosa giusta ma anche sul lavoro succede questo e l'ultima cosa ricordatevi che i gruppi troppo grandi sono sempre finiti in mano a livello storico perché quando io cresco troppo dentro di me questo a livello guardate dalla democrazia in Atene lui ha citato Aristotele per cui quinto secolo nasce la democrazia in Grecia 5.000 abitanti veniva detto come la democrazia è perfetta sono 5.000 abitanti poi ai tempi non buttavano le donne e c'erano gli schiavi per cui tanto per dire il tema è più diventa grande la comunità più diventa grande il gruppo più diventa complesso gestirlo perché i modi di gestirlo diventano più complessi il legame tra le persone diventa più leggero le motivazioni che portano le persone a far parte del nostro gruppo non sono più solo quelle pure ma arriva anche qualcosa che non deve arrivare c'è gente che viene per convenienza cioè più il gruppo diventa potente più il gruppo diventa grande più il gruppo diventa grosso più arriva no il tasso di inquinamento si alza si direbbe cioè arriva gente che non c'entra niente ci siamo ci siamo pensate a livello storico agli imperi tutti gli imperi troppo grandi sono venuti su Correlato ok per lo romano d'Oriente e d'Occidente qualunque tipo ci siamo allora la vivibilità di un gruppo è data anche dalla capacità di rapportarsi con i volti con le facce delle persone per cui una associazione di volontariato deve avere questa forza di tenere presente il volto alla situazione di chi è chi sono le persone ok e se diventa eccessivamente grande deve riorganizzarsi per trovare delle forme di organizzazione che consentano l'incontro tra le persone cioè se siete in 50.000 dell'avus l'anno prossimo dovrete organizzarvi in un modo diverso non possiamo rimanere organizzati come siamo organizzati adesso ok questo è veramente importante grazie se avete qualche domanda posso avere in certe socialità una specie di rischio di enclave se non c'è come dire un desiderio di inclusione quindi fare anche un po' di marketing e di inclusione cosa ne pensate? ecco su marketing e di inclusione lei cosa ha in mente? cioè sviluppare delle dinamiche chiamiamo simili commerciali affinché le persone vengano attratte a dare attratte nel senso buono di venire a dare il contributo alla società o all'associazione a qualsiasi idea può far sì che la socialità diventa più tonda e non una corte chiusa dove ci conosciamo solo noi e basta chi è fuori è diverso parlo come un vecchio migrante che vede dal sorrino il paese si chiude in qualche modo per la sua abitudine perché le corti erano delle costruzioni in cui si conosceva tutti e quindi bastava bastava poi conoscersi è chiaro che da una corte all'altra c'è una più differenza addirittura in paesi aperti c'è anche quella specie di diffidenza di base verso chi non si conosce o che ha un voglion completamente diverso da quelli che solitamente girano in un paese e questo nella mia associazione non è così però ritengo che il paese e nel paese ci sono molte persone che vorrebbero far parte dell'associazione però hanno bisogno di essere chiamati in un certo modo perché hanno idee diverse dell'associazione probabilmente non c'è una comunicazione all'esterno fattiva di quello che effettivamente è l'associazione cioè la spiegazione che ha dato lei non gira nel paese nel paese girano persone con i pochi che si vedono perché c'è molta chiusura e che non sanno la vera essenza quello che potrebbe dare il volontariato a loro invece di stare lì seduti o andare a casa o davanti a dire per chiacchiere senza senso il nostro senso sì sì allora le rispondo su questo però avete capito che comunque è anche una questione evolutiva nostra fare volontariato cioè un po' perché restituiamo quello che ci ha dato la vita che sarebbe già una cosa bella ma un po' perché a livello anche consentite meno spirituale di qualunque spiritualità uno faccia parte non è importante questo per me cioè dopo lui approfondirà ovviamente però il tema a livello spirituale di evoluzione noi facciamo un percorso allora su questo l'associazione di volontariato l'appartenenza all'associazione di volontariato io ho tante cioè ci sono anche delle mappe che abbiamo usato che ho usato il tema è del tipo fatemi delle domande così quando siete chiusi nelle vostre assemblete i vostri soci fate siamo sbilanciati sul fare o stiamo coltivando questa dimensione non è che dovete sentirvi brutti e cattivi no? però fa sempre cioè comodo capire dove uno si trova cioè dico facciamo tante cose io ho una serie di associazioni sul lago di Garda che sono nate per aiutare le persone adesso fanno il loro scopo è fare la festa della Santa piuttosto che non so di che cosa e fare da mangiare perché si fanno i soldi capito? allora non è un male fare i soldi no? perché poi dopo ti permette di comprare la Croce Rossa però se sono nato per dare attenzione alle persone poi dopo faccio le feste e organizzo feste per fare economico e mi sostituisco nei ristoranti probabilmente c'è qualcosa che non va non è che non posso fare però capitemi però se io da associazione di volontariato per l'aiuto delle persone delle persone anziane degli studenti eccetera mi trasformo in come dire in un'impresa che fa 5 pranzi all'anno che mi danno un sacco di soldi c'ho conto in banca tantissimo e i miei soci diventano tutti cuochi cioè ho cambiato lo stato dell'associazione vero no? ho fatto diventare una cucina non c'è niente di male però non dobbiamo perdere la nostra identità questo vi sto dicendo ho fatto un esempio un po' così la seconda cosa marketing sì ma dobbiamo anche capire a che stato siamo anche la comunità cristiana è nata in un modo particolare cioè siete siete ancora fuggiaschi quando Gesù lo stavano cercando che era morto siete le prime comunità cristiane che stanno facendo l'annuncio siete già strutturati avete cioè a che punto siete del vostro percorso questo non lo so ogni associazione probabilmente ogni centro Avuns ha una sua storia e di volta in volta può essere arrivato a un livello di grandezza di conoscenza molto alto poi dopo cade si ricomincia che è la storia dell'umanità c'è un circolo che va benissimo per vent'anni 35 35-30 anni poi dopo succede qualcosa non c'è più nessuno ci ricomincia bisogna ridire in giro chi sei arriva gente nuova devi spiegare ancora perché è un cambiamento costante pur dentro una comincia di valori come ha detto Dottor Riva allora certo che potrebbe essere utile però dipende a che livello a che punto siete voi del percorso e soprattutto come decidete di farlo ok anche quello è molto importante devo trovare tutti devo trovare persone giuste devo convincerli devo fare proseliti che devo fare? devo farmi conoscere per far capire quali sono i miei servizi o voglio attirare i numeri di persone non è così posso fare marketing per tanti motivi e in tanti modi la domanda però è molto pertinente certamente però anche lì bisogna pensarci perché se voi avete una serie dell'Aus con 500 persone che arrivano tutti i giorni e però non fanno niente non so siete conosciuti? è come avere tanti amici su Facebook e ne conosco neanche uno è meglio avere delle persone motivate ragionevolmente un po' motivate a esserci e stare a chiedere e a offrire per me scusate io non ho più la domanda che fare prima volevo aggiungere una cosa alla lo so che la domanda è stata posta a lei però nella piramide vedevamo la conoscenza di sé l'autostima cosa pensiamo noi di noi stessi cosa ci aspettiamo cosa vorremmo quando si parla di marketing che comunque chiamiamolo mercato fare mercato che è diverso ci appartiene di più come lei diceva dobbiamo distinguere come siamo strutturati cosa vogliamo eccetera noi nel nostro piccolo come dopo scuola più volte abbiamo fatto intervenire persone una psicologica particolare valida molto comunicativa molto diretta per dare delle direttive per dare dei consigli ai volontari come approcciare i ragazzi ragazzi in difficoltà ovviamente e quello che non solo io abbiamo notato è che non c'è peggior soldo di chi non può assentirle cioè tutti assentivano tutti erano d'accordo su questi concetti magari facilissimi sui quali però non avevamo riflettuto tutti concordi già dal giorno dopo ognuno andava avanti per la sua strada quindi anche fare mercato bisogna vedere a che orecchie ci si rivolge ci sono orecchie che non sono interessate ad ascoltare è inutile che io vada a vedere faccio 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 cerchiamo di capire prima diventa un mercanteggiare a vuoto che non porta niente secondo me finora non ha portato granché è stato più facile che venissero dei volontari perché tempo prima avevamo aiutato un familiare perché per sentito dire per passaparola per esperienza diretta che non perché siamo andati là di venire a fare volontariato volontariato vuol dire tua volontà se non hai la tua volontà di fare non c'è mercato non riesci a convincerli deve avere la tua volontà che deve coincidere un po' con quello che era che è la volontà della cornice perché se la tua volontà è al di fuori è inutile che vieni nella mia cornice perché non riuscirò mai a collocarti nella giusta posizione vorrei aggiungere un altro spunto di riflessione secondo me ha valore una giornata formativa così bella così ben preparata se dico se e lo sottolineo ognuno di noi si mette in gioco e riflette perché altrimenti torniamo a quello che diceva Chiara che tutti d'accordo su tante cose dette e sentite e poi l'atto concreto l'approccio verso l'altro verso è bello questo esempio che ha fatto che chi comanda tra virgolette è la persona che riceve il nostro servizio quella che è stato in bisogno cioè la cosa che ho notato in tanti anni è che molti di noi o tutti non so che mi ci metta anch'io non riflettiamo su questi spunti non ci mettiamo in gioco non ci chiediamo ma io sbaglio forse in questo in quell'altro atteggiamento perché la buona volontà questo trasporto verso l'altro non basta il trasporto deve essere anche guidato sostenuto e destinato si suppone non far dare una cosa una cosa che volevo dirvi però non sentitevi male su questo io vado a fare formazione anche in altri contesti avete ragione guardate che la vostra vita non cambia perché andate a sentire un convegno non cambia se guardate una trasmissione interessante in televisione voi non imparate a cucinare leggendo i libri va bene non imparate a cucinare guardando la prova del cuoco imparate a cucinare quando cucinate imparate a nuotare se vi buttate in piscina non è che leggete i libri di nuoto imparate a nuotare ok allora il tema sempre fondamentale è che la nostra mente cioè il nostro cervello perché come siamo fatti date che studiate queste cose è bravissima a prenderci in giro dici tu ascolti queste cose tu ti leggi cinque libri vai a tre conferenze a lei in pratica ci sono tanti cammini ormai nella formazione stiamo preponendo anche altre cose ma banalmente è una tua scelta ed è una tua libertà Gesù lo diceva però poi lo dice lui probabilmente perché fai quel che fai se tu questa domanda qui non te la fai mai o io te l'ho detto sei libero o la fai o non te la fai non te la fai bene tranquillo però non possiamo dire il senso dell'appartenenza il senso no? se non ci facciamo la domanda perché la nostra società va in un certo modo che è una società che adesso ha delle difficoltà e non riusciamo a vedere nelle bellezze il dottor Riva ci ha fatto vedere la piramide di Maslow che non è più ce l'hanno bombardata cioè bisogna dire così quando si fa alzare le mani quando si fa queste cose allora non ci non ci potremo mai dare le risposte però bisogna farle le cose bisogna ascoltarle ma dopo bisogna farle ok? io avete visto Karate Kid metti la cera togli la cera come faccio a imparare? quello devi praticare non c'è niente da fare bisogna praticare ok? ma non riesco a capire il senso il motivo non sono d'accordo è la tua mente che dice fallo fallo stai giusto e fallo ma allora non è per me nessuno ti ha detto niente quando arrivi lo fai se fai va bene se non fai non va bene ok? non cambia niente con le parole poco perché se cambio le parole cambia anche un po' di voi quello che mi aiuta è farlo insieme a quello che dico con le parole ok? però c'è gente che va a 50 conveni di spiritualità e pensa di guadagnarsi il partito non cambia niente se poi dopo torno a casa picchio mio figlio posso andare anche a fare 32 ore di yoga 50 meditazioni e mindfulness tutti i giorni andare a 12 mesi ma se torno a casa dico parolacce trattomare la gente capite? cosa mi serve? zero poco ok partiamo da questa qua ognuno di voi è libero di farcela nascono cose bellissime